Buongiorno a questo giorno che si sveglia chi non c'è Buongiorno al latte dal caffè Buongiorno a chi non c'è Buongiorno signori, buongiorno signore, buongiorno signori, buongiorno signore Oggi siamo tornati nel novesimo video, oggi è venerdì e meno male che è venerdì perché oggi sono le 11.55 Se ormai non è già mezzogiorno e anche oggi è un duro giorno di lavoro Ma appunto oggi è venerdì e quindi è un giorno speciale principalmente perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro della settimana Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che domani è un maledetto sabato e possiamo chillarci Pichino il sabato e domenica fortunatamente sono a casa Quindi non mi tocca neanche stare troppo a pensare al fattore che do altre giornate di lavoro e godo Perché gli dico se devo solo superare questa, devo solo superare questa e ci sono E ci sono e siamo a cavallo Voglio averci un attimo sto caffettino va Quindi oggi sono, cioè fortunatamente oggi non ho quel peso di dire ok cazzo oggi devo andare al lavoro Poi sia sera hip hop e mi ne dico più easy perché effettivamente non ho niente poi da fare stasera e anche domani Quindi sono abbastanza tranquillo, magari domani sera esco ma questo è un altro discorso E un'altra timeline da seguire e con altri eventi canonici da fare Quindi non è un problemone alla fin fine come organizzazione Ci sta, ci sta, ci si organizza nel mentre ce la facciamo La rottura di palle della settimana per me è dal lunedì al mercoledì Perché lunedì, vabbè è lunedì lo sappiamo Il martedì in realtà è un po' quel giorno di stacco tra lunedì e mercoledì Perché ho i pop i lunedì e mercoledì quindi mi causa grande sforzo nella giornata Perché tipo mercoledì questo ho fatto mattina pomeriggio lavoro Pesante anche E la sera avevo i pop quindi proprio morto, morto Infatti il mercoledì è uscito il video dell'smr che ho registrato martedì sera Quindi ci sta nel cholling Io in realtà spero di domani avere un bel po' di tempo Ma sicuramente sarà così Per fare un po' di contenuti per voi Perché le idee ce le avrei Infatti vorrei farvi ridere un po' di più ragazzi Vorrei farvi spezzare, vorrei spezzare qualche risata in più no? No? Tanto sto caricando dei shorts Se avete visto In più sto utilizzando il mio profilo Instagram un po' di più Anche perché l'avevo abbandonato al suo maledetto destino Ok mi sono andati a molti trasferiti Oggi sono più comodo E in realtà domani se riesco a fare un video sul fumo Ok non il fumo droga In generale fumare sigarette Perché adesso ragazzi sto utilizzando questa Questa sigaretta elettronica Perché in realtà di principio io per un po' ho utilizzato questa Poi per motivi e altro Perché sono una mezza sega Sono una pussy E ho volontà zero Avevo cominciato a fumare Infatti questi video avete visto un po' fumare Di qua di là Però non è giusto E quindi voglio parlare un attimo in un video Se il contenuto viene buono E quindi niente Solo questo Non vedo la che sia stasera Perché sto un po' rinco oggi Adesso ragazzuoli Io vi saluto Buon venerdì E ci vediamo domani Che sabato Bella Ciao